I militari del reparto carabinieri SILA, stazione Parco di Cava di Melis e Longobucco hanno individuato e sanzionato i responsabili dell'abbandono indiscriminato di rifiuti avvenuto alle località Varrise di Acri e alla località Macrocioli di Longobucco, aree ricadenti all'interno del Parco Nazionale della SILA. I militari sono riusciti a identificarli attraverso un capillare servizio di vigilanza ambientale effettuato anche grazie all'utilizzo di fototrappole che hanno consentito di risalire agli autori dell'abbandono di sacchi e buste sul suolo contenenti rifiuti solidi urbani. Sono state fino ad ora notificate sanzioni per oltre 5.000 euro e altre saranno notificate nei prossimi giorni in merito all'abbandono rifiuti attenzionato dai militari della stazione Parco di Lurica in località Agnara del comune di San Giovanni in Fiore. Tale attività condotta dai militari si inserisce in una campagna di contrasto a tale fenomeno predisposta dal reparto Carabinieri Parco su tutto il territorio dell'area protetta silana che ha negli ultimi mesi prodotto per sanzioni sui rifiuti 23 verbali per un importo di 20.000 euro circa.